Cari MTIers, creature magiche che prima erano solo dei semplici nani, benvenuti in questo video dedicato a Disney Plus e le sue prossime uscite di febbraio 2022. Partiamo! Quello che vedete tra le mie mani è il mio nuovo libro, delle recensioni inviatomi da dei miei amici e pure fan di questo canale, che probabilmente ricorderete soprattutto per i commenti, patacca, grazie davvero Stefano e Dina, perché mi sta servendo per fare ordine nelle mie visioni che altrimenti nella mia testolina si perdono come lacrime nella pioggia. E se però mi ricordassi di tenerlo sempre più vicino a me, potrei appuntarmi subito e meglio. Cosa vedo? Da notare che l'ho inaugurato con Matrix Resurrection. Direi che da lì si può solo salire. Vorrei spendere due parole, ma proprio due, sull'ultimo episodio di Boba Fett, interamente dedicato però al nostro Mandaloriano. A me è piaciuto molto e ho trovato la scelta di dedicargli un episodio molto azzardata, vista la brevità della serie, ma anche coraggiosa, che ci fa capire come Filoni e Fevraud vedono il futuro di questo franchise. Questo sta diventando finalmente un universo condiviso dove capitano cose a personaggi poco noti e che in questi si incastra tutto assieme. Cioè hai la sensazione di sentire dietro ad ogni storia il movimento di intere vite, un po' come succedeva fino a fine anni 90 con Babylon 5, o meglio, in Star Trek. Peccato però che questo punto di forza sia stato totalmente ripudiato nelle ultime creazioni, a parte Lower Decks e minimamente in Picard. Cambiando genere, recuperatevi la serie Dinosauri, perché anche a distanza di 30 anni è spassosissima e divertente, soprattutto per i più piccoli. Sì, lo guardo la mattina a colazione, problemi? Ma adesso partiamo con i nuovi arrivi. Partiamo con una serie bella scoppiettante e sessualmente sconvolgente. Pam e Tommy in arrivo proprio oggi, 2 febbraio. Parla di un fatto accaduto un quarto di secolo fa, una VHS porno e privata tra Pamela Anderson e Tommy Lee che è finita nell'embrionale rete internet e che ha creato scalpore e ancora più fama per la già famosa Baywatcher. Tre episodi iniziali e poi uno a settimana che parleranno dei problemi di privacy e, non solo, che oggigiorno, con i social spinti oltre ogni limite, dobbiamo affrontare in ogni singolo istante. Cambio subito genere passando ad un documentario sull'alpinismo estremo. L'ascesa dei ricordi sarà disponibile dal 4 febbraio e tratterà del ritrovamento del corpo di un famoso alpinista e di quello del suo cameraman, morti durante la scalata ad una montagna in Tibet dal nome per me impronunciabile Shisha Pangma, avvenuta nel 1999, una storia di ricordi familiari ed imprese di uno dei più famosi alpinisti di sempre, Alex Lowe. Se anche voi, come me, amate le storie di montagne invalicabili, penso che questo sia una tappa fondamentale come la vetta degli dei su Netflix. Ma ora godiamoci assieme The French Dispatch in arrivo il 16 febbraio, un film di Wes Anderson che parla di giornalismo in una redazione francese e che affronta tre episodi narrati sulle pagine appunto del giornale che da lì ha il titolo al film. Nella redazione della cittadina francese troviamo un Bill Murray e pure Owen Wilson e già lì si parte molto bene, ma nei tre episodi narrati, uno dedicato ad un doppio omicidio, uno ad un rapimento e l'ultimo a moti sudenteschi del 68, arriveranno anche attori come Will Defoe, Benicio del Toro e Christopher Waltz, che per me spiccano su tutti gli altri. Un film che merita ampiamente una visione. Cosa potrebbe meritare una sbirciatina? È però Blackpink, il film in arrivo sempre il 16 febbraio. Documentario sull'ascesa di uno dei più famosi gruppi K-pop coreani. Sì, se non lo sapete, ora il pop si è spostato in Asia e soprattutto in Corea del Sud. Una band così seguita che pure io, che ormai sono fuori dal mondo, e se ascolto solo musica, jazz, indie o retro wave, conosco, quindi magari in sottofondo. Ma adesso un po' di animazione per la famiglia, ma soprattutto i bambini, con il ritorno della famiglia Prod il 23 febbraio. In questo più forte e orgogliosa che mai, li ritroveremo ai giorni nostri, quando inizialmente erano dei primi anni 2000. Cosa sarà quindi successo alla famiglia in questi 15 anni e passa? Io continuo sempre a domandarmi se servano tutti questi ritorni di nostalgia, ma in effetti, dai dai su, ci sta. Ora arriva al pezzo forte, un film che non sono riuscito a guardare in sala, ma certo che è lui, The Kingsman, le origini, sarà disponibile dal 23 febbraio. Un film da me molto atteso, visto l'interesse che ho per i Kingsman. Una serie filmica, e non solo, molto irriverente e interessante per chi ama gli spay movie. Sì, ok, su Netflix c'è Archer, ma non è per tutti come questo Kingsman. Vedremo quindi come è nata la famosa agenzia investigativa privata. Non vedo l'ora, e sì, al cinema l'ho perso perché è rimasto pochissimo e non sono riuscito ad organizzarmi. Un film tutto originale per la piattaforma è invece No Exit, in arrivo il 25 febbraio. Storia incentrata su di una bufera di neve che blocca in una stazione di servizio isolata la nostra protagonista e diverse altre persone. Quando la nostra protagonista scopre una ragazza rapita in un furgone, parcheggiato all'esterno, scatta la necessità di trovare i colpevoli e smascherarli prima che siano loro a mettere le mani su di lei. Sembra interessante e pieno di tensione come film. Vedremo. Prima di chiudere, due parole dedicate alle uscite per i più piccoli. Oggi 2 febbraio è arrivato Topolino, la casa del divertimento, una serie del Topo, simbolo della Disney, e poi il 18 ecco arrivare anche il meraviglioso inverno di Topolino. Per completare i consigli, sempre il 18 arriverà la diciottesima stagione dei Griffin, una serie di animazione demenziale piena di parolacce in cui un bambino costruisce addirittura macchine del tempo e... no, no, ma scusate, non penso che i Griffin siano da bambini. Che faccio? Lascio? Vabbè, lascio allora, ok? E anche per questo video siamo giunti alla fine. Lasciate come sempre un grande mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ho notato che questo gennaio c'è stato un po' di calo d'attenzione fisiologico dopo le abbuffate natalizie, ma i vostri commenti piovono come sempre e la cosa mi fa piacere, anche perché trovo sempre altri spunti di visione da quei commenti. Grazie davvero a M.T. Ayers e al prossimo video! Ciao!